Una riflessione sull'essere umano attraverso il linguaggio dell'arte, dalla pittura alla scultura, a partire da una parola che indica la capacità di reagire alle difficoltà della vita. Si intitola Resilienza, la mostra di Cristian Balzano, artista livornese di arte contemporanea, ospitata nella sede milanese di Banca Generali in piazza Sant'Alessandro. Un percorso con protagonista il toro, che diventa un pretesto per parlare d'altro, della necessità di cambiare punto di vista per affrontare la negatività e ripartire, come spiega Balzano. Secondo me il toro è l'animale più resiliente in assoluto, rappresenta un po' la metafora di noi stessi, di quello che stiamo vivendo, ecco perché in questa mostra ci sono tante cose, non è come si cade ma come ci si rialza, ecco perché tutta una serie di pitture legate a un doppio, e quindi a questo dualismo, vita e morte, sostanze e apparenze, eccetera, e da quei titoli, io siamo, io siamo certezza, io siamo dubbio, io siamo sostanza, io siamo apparenza. La mostra nasce dalla condivisione di valori tra l'artista e la banca, che emergono bene con la metafora del toro, figura di grande forza e slancio. La di di Banca Generali, Gian Maria Mossa. Resilienza vuol dire la capacità di non arrendersi, di riprendersi, di continuare e perseverare, che è un po' il concetto che caratterizza la relazione dei nostri consulenti con i nostri clienti, soprattutto nei periodi di difficoltà, che è dove emerge la qualità. È un concetto che ci piace anche estendere alla città di Milano, questa bellissima città, che finalmente si sta riprendendo il giusto ruolo di protagonista all'interno dell'Europa, e l'augurio che possiamo fare è che questo succeda anche per il nostro paese. La mostra inizia nel cortile della banca con un'opera che rappresenta una bambina che tira verso di sé un mondo composto di diversi toni di pelle, quasi a volerlo spostare e allo stesso tempo spellare per vedere cosa ci sia oltre. Ancora una bambina con il visitatore nella sede, regge una grande massa e simboleggia le nuove generazioni, il presente che sostiene il passato, le esperienze di vita. Il concetto è un po' questo, quello di creare delle domande, è far pensare le persone, dare dei punti di vista differenti, creare dei dubbi, sempre più dubbi, senza assolutamente dare risposta. Patrocinata dal Comune di Milano, la mostra è aperta sino al 27 aprile 2018.